Come ogni escursione, è il momento di Oggi Sarà Una Giornata Epica! Come ogni escursione, è il momento di Oggi Sarà Una Giornata Epica! Mentre è spenta è la giungla, dalle finestre in città, il vicolo risuona in alcuni vai, e dietro i vetri, fra mille storie, un solo suono le accompagnerà. Ehi, senti DJ, lampie fuochi fra te nel TV, scelgo la tua musica, no, non mi imita, tendo l'imbrunire, ti riascolterò. Ehi, senti DJ, lampie fuochi fra te nel TV, scelgo la tua musica, no, non mi imita, tendo l'imbrunire, ti riascolterò. Ehi, senti DJ, lampie fuochi fra te nel TV, scelgo la tua musica, no, non mi imita, tendo l'imbrunire, ti riascolterò. Ehi, senti DJ, lampie fuochi fra te nel TV, scelgo la tua musica, no, non mi imita, tendo l'imbrunire, ti riascolterò. ehi, senti DJ. Ehi, senti DJ, lampie fuochi fra te nel TV, scelgo la tua musica, no, non mi imita. Grazie a tutti.